Voglio raccontarvi la storia di un risveglio. Il libro dei giudici è caratterizzato da molti momenti di storia speciale dove il popolo di Dio si allontana e poi ritorna al Signore. E il testo chiave del libro dei giudici è quello che dice che a quel tempo ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E mi sembra che ogni tanto succede anche nella Chiesa, che qui ognuno, nella Chiesa in generale voglio dire, spero che questo non succeda tra di noi, che ognuno fa quello che gli sembra meglio. Tanto Dio è là e noi siamo qua e quindi possiamo fare quello che vogliamo. Ma la cosa più brutta è che, leggiamo anche in questo passo, è che molte volte il Signore veniva incontro al suo popolo e gli dava tempi di pace, ma questi tempi di pace non giovavano alla vita di Israele, in quanto Israele è sempre stato un po', come si dice da qualche altra parte, un popolo un po' di collo duro che facilmente si sviava. Così nel capitolo 10 noi leggiamo che ci sono stati due giudici. Il primo era Tola, che era il figlio di Dodo, che era un uomo di Issacar, della tribù di Issacar. E lui fu giudice di Israele per 23 anni e poi morì. Quindi ci sono 23 anni di pace che il Signore dà tramite questo giudice che si chiama Tola. Ma poi dopo la sua morte venne un altro giudice che si chiama Geire, che veniva dalla tribù di Galad. E lui fu giudice, leggiamo, per 22 anni. Quindi 23 più 22 quanto fanno? 45. 45 anni di pace. Amene? Ma in questi 45 anni di pace purtroppo Israele non ha celebrato il Signore. La cosa simpatica di questo giudice, a proposito giudice, non significa come noi intendiamo oggi uno che sta dietro a uno scanno a giudicare secondo la legge. Il giudice in questo libro è un condottiero, è magari una persona che rende anche giustizia ma che fa le funzioni di un principe del popolo. Leggiamo la cosa simpatica di questo giudice di Galad, il giudice Geire, che aveva 30 figlie. Quanti vogliono 30 figlie? Vediamo. Che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città che si chiamano anche oggi i villaggi di Geire e sono nel paese di Galad. Poi anche lui morì. E la parola del Signore inizia a dire una cosa che è molto particolare. Israele tornò a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Servirono, allora notate chi hanno servito, servirono i Baal, gli Ashtarot, Astarte, gli dèi della Siria, gli dèi di Sidone, gli dèi di Moab, gli dèi dei figli di Amon e gli dèi di Filistei e abbandonarono l'Eterno e non lo servirono più. Un bel supermercato di dèi, vorrei dire. Non so quant'altro se ne si doveva aggiungere, ma questo ci fa capire che in quel tempo l'idolatria era molto forte in Israele. Sì, avevano la pace, avevano il benessere, ma si allontanarono da Dio. E purtroppo quello è quello che noi spesso vediamo anche nei nostri giorni. C'è qualche cosa che è al di là forse della nostra comprensione, ma spesso il benessere, invece di aiutare a servire Dio, porta la persona lontano da Dio. E noi vediamo che il benessere che è da tutti ricercato, con tutte le maniere, con tutti i modi possibili, spesso ha proprio questa conseguenza, che ci si mette a servire non Dio, che è colui che ti procura la benedizione e il benessere, perché Dio aveva dichiarato al suo popolo, se tu mi serverai, io ti benedirò. Ti benedirò nella città, ti benedirò nella campagna, ti benedirò nei tuoi parti, ti benedirò nella tua maglia, ti benedirò nella tua casa, ti benedirò. Amen. Dile alla persona vicino a te, Dio è pronto a benedirti, sei pronto a ricevere? Amen. Allora, Dio voleva benedire il suo popolo. Ma che cosa è successo? Israele, chissà perché, e qui entra sempre la natura umana, Israele si è dimenticato del patto. E hanno iniziato a servire altri Dei. Baal, Astarte e tutti quelli che abbiamo letto in questa maniera. Era l'idolatria più completa. E oggi quante persone si trovano in questa stessa situazione? Iniziamo ad adorare altri Dei. Si adora il Dio del denaro, si adora il Dio del successo, si adora, che ne so, il Dio di Facebook, dove si stanno le ore, le giornate intere davanti a Facebook o a qualche altra cosa. Si adorano tante cose che invece sono lontano e ci portano lontano da Dio. Poi noi diciamo, noi siamo i Santi, siamo quelli che siamo chiamati a vivere in santità, ma nel nostro cuore c'è ancora della carnalità. E così facilmente ci lasciamo attrarre dalle cose del mondo. Amen? Voi sapete che Dio aveva ordinato una cosa che a noi oggi, in questo nostro secolo, ci sembra orribile. Perché Dio aveva ordinato che gli israeliti, man mano che andavano a conquistare il terreno, eliminassero tutte le dèi pagani, le popoli che servivano a dei pagani, perché Dio voleva che gli israeliti servissero solo a Lui. Amen? Il primo comandamento cosa dice? Quando Dio si rivela a Israele, io sono il Signore, il Dio tuo. Non adorare nessun altro Dio all'infuori di me. Amen? E quindi da un comandamento preciso. Lui dice, quando entrerete nella terra che io vi do, non vi mischiate con gli altri dèi, non accettate. Ma quando voi leggete il primo libro dei giudici, leggiamo che tutte le tribù, la maggior parte delle tribù, hanno commesso degli errori, perché hanno permesso di convivere i dèi pagani con loro. Hanno permesso che loro si mischiassero, si sposassero, cosa che Dio aveva proibito con persone pagane. E quindi è tutta una situazione che per noi è un insegnamento, un insegnamento tipico, che se noi siamo nel mondo, come dice il Vangelo dei Giovanni, non per questo noi siamo del mondo. Amen? E questo è molto importante, perché oggi c'è una tendenza, anche nelle chiese, ad appiattire le cose. E quindi noi siamo nella situazione in cui facilmente vogliamo identificarci con quelli che sono fuori, fare le stesse cose, ma non è questa la nostra chiamata. Quanti possono dire amen? Amen? Noi siamo chiamati a vivere fuori dal mondo, a non mischiarsi con le cose del mondo. Ed ecco che spesso e volentieri succede proprio questo, che nonostante tutto la chiesa entra in un tunnel di idolatria. Sì? Non sto dicendo una cosa strana. Spesso e volentieri la chiesa che dice di servire il Dio entra in un tunnel di idolatria e si mette a servire altri dei o altre cose. E la parola del Signore ci dice nel versetto 7 che come è successo altre volte, il Signore si accese di ira contro Israele e le diede nei mani dei filistei e nelle mani dei figli di Amon. E così leggiamo nella parola del Signore che questi figli di Amon, questi nemici, questa popolazione che dovevano essere già dall'inizio sconfitte, ma che hanno permesso Israele che dimorasse vicino a loro, che l'hanno di essere molestati ai figli di Israele e li molestarono per quanti anni? Nella vostra Bibbia quanto c'è scritto? 18 anni. Hanno avuto quanti anni di pace? Prima, è vero? 45 anni di pace, ma successivamente si sono allontanati da Dio e quando tu ti allontani da Dio che cosa puoi ricevere? Non certo la pace. Amén? Ma quando ti avvicini a Dio allora Dio è pronto a benedirti. Ma mentre stai lontano da Dio non potrai ricevere la benedizione. E il Signore qui ha permesso che questi figlioli di Amon, questo popolo di Amoniti, entrasse, occupasse le terre e tenesse in qualche maniera soggiogato, disturbasse la popolazione di Israele per ben 18 anni. Non è uno scherzo 18 anni, è vero? E in quel tempo però è successo qualcosa molto particolare. che hanno cercato i figli di Amon di attraversare il Giordano e di combattere anche contro altre tribù come Giuda e Beniamino e tutto Israele si legge che fu una grande avversità, una grande difficoltà. E gloria a Dio! Quando sembra che tutto è finito i figlioli di Israele, leggiamo, si sono messi a fare una cosa che forse avrebbero dovuto fare un pochino prima. Amen? Si sono messi a gridare all'Eterno. Alleluia! Si sono messi a gridare all'Eterno. Dio aveva mandato un giudizio. Aveva mandato il giudizio come spesso succede nel vecchio patto. Si era servito di popolazioni che Israele aveva tollerato disobbedendo al comandamento di Dio per infliggere a Israele una punizione. Ma ogni volta che Dio permette qualche cosa nella vita di Israele, non lo fa perché vuole vedere che Israele sia completamente distrutto. Amen? Possiamo dire amen a questo? E così è anche per noi. Certe volte noi diciamo perché, ma il Signore permette certe cose. Amen? Perché noi possiamo ritornare a Lui. Amen? Amen? Gloria a Dio! Io credo nella prosperità. Quanti credono nella prosperità? Quanti credono che Dio vuole benedirci? Amen? E quanti credono che Dio corregge i figliuoli che Lui ama? Amen? Questo è un passo degli ebrei. È vero? È scritto che Dio corregge i figliuoli che Lui ama. Ed è giusto che sia così perché se i nostri figli non sono corretti non siamo dei genitori bravi. Amen? Non siamo favorevoli al metodo in cui lasciate fare ai figli tutto quello che vi pare. Perché sapete quanti hanno provato quanti sono genitori qui? Amen? Quanti hanno provato che i primi tempi della vita dei bambini loro fanno di tutto per vedere fino a che punto loro possono arrivare? Quanti hanno provato questo? Ci provano sempre un pochettino di più per vedere fino a che punto ti possono mancare di rispetto. È vero o non è vero? E in quel caso che cosa ci vuole? Ah, lascialo stare. Tanto crescerà, cambierà. Mia moglie ogni tanto diceva di Michele e Lorenzo. Paolo, lo vedi che le stanno chiedendo? Siccome erano due maschi a distanza di due anni uno dall'altro e Michele è sempre stato quello più impetuoso e lui picchiava sempre tutti. E povero Lorenzo non so quante botte ha preso. Poi a un certo punto però si difendeva e succedeva al finimondo. Perché una volta sì, due volte sì, tre volte sì. e alla fine la mamma doveva intervenire. Come interveniva? Prendeva qualche cosa o la mano o il mestolino o quello che capitava. e metteva in pratica il libro dei proverbi noi siamo biblici metteva in pratica il libro dei proverbi e così per una settimana c'era una calma una tranquillità poi dopo passata la settimana le cose iniziavano a crescere a me e credo che Dio fa così con noi c'ha pazienza ci lascia stare a un certo punto dice ora qualche cosa io devo combinare con questo filo qua che è un po' difficile da gestire. E così è fatto anche con Israele e ha permesso che ci fosse una situazione difficile. e vedete la cosa è che quando noi abbiamo conosciuto Dio quando ci troviamo nelle situazioni difficili se veramente abbiamo conosciuto Dio andremo a cercarlo a me? Quanti possono dire a me? Se noi abbiamo veramente conosciuto Dio nel tempo in cui noi stiamo bene diciamo oh grazie Signore ma poi è tutto sommato insomma stiamo bene ma quando stiamo male ah che preghiere che arrivano a Dio eh? Sì o no? quando stiamo male Signore intervieni guariscimi provvedi per la mia famiglia improvvisamente diventiamo tutti dei grandi intercessori e desideriamo che Dio faccia così con noi no? E invece magari questo non succede e quello è che è successo anche con questo con questo popolo perché la parola del Signore si legge che i figli di Israele cosa hanno fatto i figli di Israele? capite la parola no? i figli di Israele hanno hanno gridato Signore sembra qualche chiesa dove qualcuno si mette a pregare e strillare no? Signore abbiamo peccato contro l'Eterno contro di Te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito Ivar vedete c'è un momento in cui dobbiamo confessare il nostro peccato amè? c'è un momento in cui se noi vogliamo ritornare a Dio dobbiamo ritornare indietro dal punto di cui noi siamo partiti e c'è un momento in cui lo Spirito di Dio se noi veramente abbiamo conosciuto il Dio c'è un momento in cui lo Spirito di Dio ci convince di peccato amè? questo è molto importante perché se noi non siamo convinti del peccato la nostra vita rimarrà su quello stesso stato non potremo ritornare al Signore non a caso Gesù ha raccontato una parabola che è la parabola che noi chiamiamo del figlio prodigo io la chiamavo la parabola del figlio sciagurato perché quello era un figlio sciagurato ma ad un certo punto non so raccontarvi la parabola credo che tutti voi la conoscete questo si è allontanato da suo padre è andato lontano ha mangiato le cose impure ha desiderato le cose ha dissipato tutti i suoi beni e a un certo punto è stato compunto nel suo cuore e ha detto cosa sto a fare io qui quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io sto qui a mangiare quello che avanza maiali c'è una cosa assolutamente un abbruttimento totale è vero specialmente per un ebreo mangiare cose impure riservate a maiali che non dovevano neanche avere contatto con queste situazioni di impurità e lui ritorna indietro e sapete una volta ho letto questa espressione molto bella tutto il cammino che il figlio aveva fatto per allontanarsi dal suo padre l'ha dovuto ripercorrere tutto all'indietro non ci sono state scorciatoie e quando lui ritornava diceva io dirò questo mio padre ho peccato contro il cielo e contro a te non sono degno lui cercava le scuse ma ecco che a un certo punto invece succede il miracolo il padre lo sta aspettando amén il padre ti sta aspettando dire alla persona vicino a te il padre ti sta aspettando ti sta aspettando qualunque sia il peccato che tu hai commesso se tu sei compunto nel tuo cuore e se tu confessi il tuo peccato sappi che il padre ti sta aspettando amén e quando tu lo vedrai da lontano forse non avrai il coraggio come aveva questo figlio di avvicinarsi al padre ma il padre lo ha accolto gli ha detto dateli un nuovo vestito amén anche se ci allontaniamo dal Signore Dio è pronto ad accoglierci quando noi riconosciamo che abbiamo peccato contro di Lui ma in questa situazione è ancora più particolare perché il Dio si rivolge al popolo di Israele i figlioli di Israele abbiamo detto cosa hanno fatto hanno gridato all'Eterno dicendo abbiamo peccato contro di te ma l'Eterno versetto 11 l'Eterno disse figlioli di Israele non vi ho io liberati dagli egiziani dagli amorei dai figli di Amon dai filistei e quando quelli di Sidone gli ammalichiti i maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me non vi ho liberati dalle loro mani a me dille alla persona vicina a te non ti hai Dio liberato durante la tua vita quante volte Dio ti ha liberato durante la tua vita a me a me quante volte Dio ci ha liberato nel corso della nostra vita il Signore misericordioso ci ricorda che Lui è sempre dalla nostra la nostra parte ma i figlioli di Israele ma dopo tutto questo nonostante ciò dice il Signore voi mi avete abbandonato ed avete servito altri dei perché io e perciò io non vi libererò più mamma mia sembra che Dio sia diventato proprio quel Dio crudele è vero io dice non vi libererò più ma guardate la Bibbia non finisce qui a me il racconto non finisce qui perché i figli di Israele nonostante che le avessero abbandonate nonostante che non avessero avuto fiducia nella potenza di Dio hanno risposto dicendo abbiamo peccato fa a noi tutto ciò che ti pare ma liberaci oggi te ne supplichiamo amén vediamo che il Signore è pronto ad ascoltare ancora ci fu un ulteriore passo di pentimento un ulteriore passo di confessione questo mi ricorda qualche cosa quando Davide peccò di adulterio è vero e poi arrivò il profeta Nathan e gli disse cosa vuoi la guerra la peste e lui che cosa disse preferisco cadere nelle mani dell'Eterno amén perché lui sapeva che la cosa migliore era che Dio potesse applicare un giusto giudizio nella sua vita amén ora la cosa incredibile è che qui non vediamo tanto il giudizio ma come è successo nella vita di Davide vediamo la grazia perché Davide poi sì fece lutto per il bambino il bambino morì ma poi si rialzò ma sapete che dopo questo ha avuto quel figlio e quel figlio era Salomone Dio è buono amén dillo con me Dio è buono amén quante volte sbagliamo e Dio ci fa ancora grazia della sua grazia amén e quindi forse noi non comprendiamo sul momento quello che sta succedendo ma Dio vede al di là delle nostre limitazioni e così leggiamo nella parola del Signore che loro hanno ancora rinnovato il loro pentimento e certe volte è vero abbiamo bisogno di stare davanti al Signore di piangere davanti al Signore di rinnovare la nostra confessione di fede di rinnovare il nostro pentimento di rinnovare la nostra dedicazione a Lui amén oggi abbiamo alzato le mani e detto Signore sono Tuo non sono parole messe nell'aria amén siamo d'accordo su questo sono parole che noi diciamo sinceramente sapete questa è una testimonianza nei luoghi celesti amén perché quello che voi magari che noi pensiamo che non si sente ma nelle sfere celesti le nostre dichiarazioni hanno un forte potere amén è vero perché la parola che noi diciamo crea delle cose nei luoghi celesti e infatti il Signore ci insegna che dobbiamo pregare ogni giorno e il Dio ha fatto di tutto per non farci pregare amén è vero tu te le trova perché noi ci allontaniamo dalla preghiera se c'è una battaglia che dobbiamo condurre quotidianamente ve lo dico per esperienza è proprio questa faccenda qua stare nella comunione di Dio stare sul monte di Dio vivere nella lode vivere nel ringraziamento vivere nella preghiera vivere in uno stato di continua comunione con Dio amén questa è la sfida che noi abbiamo ogni giorno amén ma il Signore ci incoraggia e in questo passo vediamo ancora la grazia del Signore sì il Signore rimprovera il suo popolo il Signore dice al versetto 13 io non vi libererò più ma ecco che c'è una nuova confessione una nuova confessione che dice Signore fai a noi quello che tu ritieni più opportuno amén questo dobbiamo dire noi al Signore Signore fai di noi quello che vuoi più sia opportuno per noi amén e così la richiesta era molto semplice soltanto te ne preghiamo liberaci liberaci da questo popolo da questa oppressione nel versetto semplice versetto 16 liberaci oggi quando loro parlano di questo a che cosa fanno appello fanno appello alla grazia di Dio amén perché Dio dice io non vi libererò più il discorso è finito quante volte noi diciamo alle persone che ci fanno veramente arrabbiare tra me e te tutto è finito e magari succede davvero questo io spero che non succeda nelle coppie perché questo poi porta anche difficoltà nelle relazioni ma quante volte diciamo io con quella persona l'ho perdonato ma non ci vuole avere più niente a che fare è vero e certamente certe volte può anche essere salutare questa cosa ma comunque dobbiamo avere un atteggiamento positivo amén e chiedere al Signore che la vita delle persone che sono intorno di noi sia sempre trasformata ed ora hanno fatto appello alla grazia di Dio hanno fatto appello alla grazia di Dio hanno detto sì Signore abbiamo sentito tu non ci aiuterai più però ti preghiamo fai quello che vuoi ma aiutaci aiutaci a me in questo giorno la cosa gloriosa che noi vediamo è qui vediamo il risveglio non abbiamo bisogno solo di un risveglio no? ma abbiamo bisogno dei frutti concreti del risveglio amén possiamo dire amén perché sapete molti cercano il risveglio come una sorta di emozione andiamo là perché c'è il risveglio io ho visto in questi anni in questi ultimi venti anni vari risvelli ogni volta che c'è un movimento dello spirito che chiamiamo risveglio perché poi questa parola non esiste nella Bibbia ogni volta che c'è un forte movimento dello spirito Toronto Pensacola Todd Bentley migliaia di persone in Florida sono andate ma alla fine tutto questo e fuoria si trasforma in qualche cosa di non fruttuoso per l'eternità molti sono toccati molti sono guariti ma ci vuole più che un risveglio amén ci vuole più che un risveglio ci vuole più che correre in qualche santuario evangelico per vivere la vita con Dio amén è chiaro ci vuole di vivere una vita consacrata al Signore e questo è quello che hanno fatto queste persone leggiamo che nel versetto 16 che tolsero di mezzo di idee stranieri e servirlo all'eterno che si addolorò per la sofferenza di Israele che bello non ci furono solo le dichiarazioni le preghiere le richieste ma hanno fatto qualche cosa di concreto hanno tolto gli idoli e finalmente si sono messi a servire il Signore e quindi quello questo che noi vediamo è che spesso appunto spirito e carne purtroppo sono insieme anche quando lo spirito santo si manifesta siamo sempre pronti a cadere nell'errore della carne e questo è quello che è successo anche a questo popolo perché nella parola del Signore leggiamo che l'Iterno si addolorò per la sofferenza di Israele ma ecco che dopo questi tempi tutto il popolo di Amon si radunarono e si accamparono a Mispa c'erano sentore sentore di guerra e il popolo cioè i principi di Galate si dissero l'uno all'altro chi sarà l'uomo che inizierà a combattere contro i figli di Amo egli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galate cosa è successo Dio si è mossa con passione loro stanno camminando ma a un certo punto hanno bisogno di mettere la loro volontà in quello che Dio stava cercando di fare e purtroppo questo succede spesso magari Dio ci riporta nelle sue vie magari Dio ci dice che cosa dobbiamo fare magari Dio manifesta la sua grazia verso di noi ma noi non siamo così fiduciosi e sicuri di quello che Dio vuole fare ed ecco che allora tutto il popolo quando il nemico arriva si raduna e si dice qui qualcuno vuole farci le ossa qualcuno ci vuole spellare vivo cosa facciamo dove lo troviamo un capo ma chi era il loro vero capo il loro vero capo era il Dio ma loro hanno bisogno comunque di trovare un capo che li guidi nella battaglia e nella vittoria e qui entra Jefet e Galadita ora Jefet è un personaggio molto particolare perché nel libro degli ebrei al capitolo 11 viene menzionato tra gli eroi della fede ricordate che diremo di questo di questo e di Jefet eccetera e quindi Jefet è uno degli eroi della fede menzionati in ebrei al capitolo 11 verso la fine del capitolo e Jefet era un uomo molto particolare perché era un uomo come? leggetemelo un uomo forte e valdoroso ed era figlio di una prostituta cioè anche lui non è che avesse una genealogia così eccellente perché il Galad che era suo padre è vero era stato con una prostituta ed era il primo genito della famiglia di Galad quindi leggiamo un versetto 2 che nella moglie di Galad ripartorì tre figli e quando questi tre figli furono cresciuti dissero a questo uomo forte e valoroso e bene gli dicono tu non puoi più stare in casa con noi ha il suo primo rifiuto viene rifiutato viene cacciato da casa è vero e ad un certo punto si rifugia nella regione di Top e leggiamo nella parola del Signore che intorno a lui si raccolsero degli uomini dal nulla e fu una squadra di gente che andava a rubare di predoni di gente che andava a rubare e facevano incursioni ma ecco che i figli di Amon il popolo di Amon inizia a fare guerra a Israele e qual è la soluzione? la soluzione è che i giudici gli anziani scusate gli anziani di Israele andarono a cercare proprio questo figlio di una prostituta con tutta la gente che avevano andarono a cercare lui e gli dissero vieni sii nostro capitano per combattere contro i figli di Amon ovviamente Jeff disse come? prima mi avete cacciato mi avete buttato fuori e adesso mi venite a cercare perché io sia il vostro capitano il vostro condottiero e perché venite da me proprio ora che siete nell'avversità certamente era una reazione anche abbastanza naturale da uno che ha subito rigetto che è stato scacciato che si sentiva figlio di una di una prostituta questa dice la scrittura qualcuno oggi direbbe figlio di NN una volta si scriveva così quindi privo di una vera identità ma un uomo forte e valeroso e gli anziani dissero vieni diventa il nostro capo ovviamente non si fidava più tanto dopo che l'avevano cacciato via lui vuole assicurarsi in qualche maniera ma la cosa incredibile è che la parola del Signore si dice che Gephte fu subito il rigetto ma non si è come dire crogiolato nel rigetto amè allora questo è importante perché noi possiamo anche subire il rigetto possiamo anche essere allontanati dalla nostra famiglia possiamo anche essere allontanati dalla nostra chiesa amè succede questo possiamo anche essere feriti ma non siamo chiamati a vivere nel rigetto amè quanti possono dire amè non siamo chiamati a vivere nel rigetto siamo chiamati a vivere nel perdono e così certamente lui ha voluto metterlo a cosa in chiaro ma è importante che noi impariamo da questa cosa e nel versetto 9 c'è anche un'altra cosa molto bella perché loro dicono vieni tu sarai il nostro capo ma lui subito non accetta questa cosa ma se dice se io vincerò guardato nel versetto 9 se mi riconduscete da voi per combattere contro i figli di amore e l'Eterno gli dà il mio potere se l'Eterno gli dà il mio potere allora io sarò il vostro capo amè non ha cercato un onore subito per sé ma è stato come si dire prudente e ha cercato che il Signore fosse con lui amè e quindi anche noi nella nostra vita cerchiamo che il Signore sia con noi amè anche se siamo stati rigettati e qualcuno ci viene a chiedere perdono allora siamo amorevoli perdoniamo e camminiamo nelle vie del Signore leggiamo infatti che Jeff andò con gli anziani di Galat e il popolo costituì suo capo c'è tutta una storia che vorrei un po' sorvolare perché lui cerca di fare delle trattative leggete questo con il popolo che gli veniva contro a fare guerra ma ad un certo punto in questa sua situazione in questa trattativa Jeff fa una cosa ricorda quello che Dio aveva fatto per il popolo di Israele in queste situazioni guardate leggete da versetto 15 al versetto 26 vorrei andare verso la fine da 15 al 27 ricorda riconosce che Israele ha sbagliato ma ci fa una cosa ricorda anche le promesse di Dio ricorda anche che Dio sin dall'inizio aveva detto che quel territorio sarebbe stato donato a voi a lui amè io voglio dire anche a ciascuno di voi ricordati le promesse di Dio dire alla persona vicina a te amè ricordati delle promesse di Dio anche se hai sbagliato ricordati delle promesse di Dio amè perché Dio vuole comunque che tu conquisti il territorio che lui ha promesso per te amè e così lui si rifà la promessa di Dio e questo ci dice appunto una cosa importante perché lui fa di tutto per evitare la battaglia ma ad un certo punto entra nella battaglia e quante volte abbiamo detto qua che il nostro combattimento non è contro sangue e carne noi vorremmo evitarla la battaglia sì non è che ci piace poi tutta questa battaglia perché la battaglia ha sempre un prezzo molto alto da combattere tuttavia o che ci piaccia o che non ci piaccia noi siamo chiamati a essere dei combattenti amè allora dire alla persona vicino a te sei un buon soldato di Cristo Gesù amè combatti il buon combattimento amè e avanti amè perché gli ammoniti ci stanno sempre intorno di noi se non sono ammoniti sono filiste o qualche altra cosa ma comunque noi siamo chiamati a combattimento gloria a Dio perché le nostre forze non sono le nostre ma noi possiamo dire come disse Gephtel leggiamo nel versetto 24 nel versetto 24 così anche noi possederemo il paese leggiamolo insieme avete la vostra Bibbia? leggiamolo diciamo così anche noi possederemo il paese di quello che l'Eterno ha cacciato davanti a noi amè diciamolo così anche noi possederemo il paese amè così anche noi possederemo il paese che l'Eterno ci ha dato amè io non so qual è il tuo territorio ma credi che Dio vuole darti il territorio amè e se hai una posizione mantienila perché verrà senz'altro qualche d'uno a volerti scacciare dal tuo territorio amè però tu dichiaralo come disse Jeff Jeff fu fu forte nel dichiarare questa parola e così noi possederemo il paese di quelli che l'Eterno ha cacciato davanti a noi e gloria a Dio lui dichiarò che quel territorio le apparteneva sono più di 300 anni che Israele abita ad Esmon eccetera ma la cosa incredibile è che benché fosse un uomo ripieno dello Spirito Santo perché dopo queste parole leggiamo nel versetto 29 leggiamo nel versetto 29 che dopo queste parole questa dichiarazione forte lui dice lo Spirito dell'Eterno venne su gli altri ed egli attraversò Galad e Manasse lo Spirito dell'Eterno venne sopra di lui era un uomo che fu ripieno dello Spirito Santo amén quando prendi coraggio cosa succede inizia a muoverti in fede lo Spirito Santo viene per te amén domenica scorsa ero con la sorella Laura sì domenica scorsa e mi è piaciuta un'affermazione che lei ha fatto perché dico ma si stava parlando così del muovere dello Spirito e lei ha detto una cosa molto semplice se vuoi il vino se vuoi l'uva devi andare a coglierla ascolta se vuoi l'uva e vuoi fare il vino devi andare nella viglia a a coglierla se vuoi essere nella pienezza dello Spirito Santo devi fare qualche cosa devi andare dove c'è lo Spirito Santo devi agire ti devi muovere a me non puoi pensare di lodare Dio nello Spirito stando a bocca chiusa a me se tu vuoi lodare Dio nello Spirito devi iniziare a ad aprire la tua bocca sì non puoi pensare che la gente veda il Signore se non vai a a testimoniare cioè se vuoi un risultato devi esserci anche una qualche azione che ti spinga che ti dia potivo di fare questo e questo è importante per noi perché molte volte noi ci sediamo e diventiamo sonnacchiosi un po' come le vergini stolte poi quando il Signore arriva noi perdiamo la benedizione allora dobbiamo essere vigilanti ma per essere vigilanti dobbiamo decidere di essere attivi e qui vediamo che questo condottiero di Dio questo uomo che menzionato tra gli eroi della fede si mosse e lo Spirito dell'Eterno venne su di lui ed attraversò e però questo uomo che era così coraggioso forte e valoroso e ripieno dello Spirito Santo anche lui ha sbagliato sì ha sbagliato perché conosceva Dio conosceva molte cose ma nel versetto 30 leggiamo una cosa che fece un voto all'Eterno e disse se tu mi dai nelle mani i figli di Amon ciò che uscirà dalla porta di casa mia per venirvi incontro quando tornerò in pace dai figli di Amon appartnerà all'Eterno e io la offrirò in Olocausto Dio aveva mai chiesto con una cosa di questo genere no lui fa un voto temerario e fa un voto anche confusionario io direi perché in qualche maniera lui era ritornato dal Signore ma ancora c'era qualche cosa nella sua vita che non era ben chiaro infatti fa un voto temerario crede in Dio è ripieno dello Spirito di Dio ma fa un voto dicendo la prima persona che io incontrerò quando ritornerò dalla vittoria io la offrirò in Olocausto e era nelle religioni cananee che soffrivano le persone in Olocausto ma Dio non ha mai chiesto che ci fossero delle persone date a lui in sacrificio e la cosa che vediamo nella scrittura è che in questo passo Dio non dice niente in questo passo Dio non dice non ferma la promessa di questo condottiero e qui mi ricorda qualche altra cosa mi ricorda che un giorno invece Dio ha detto ad Abramo vai e sacrifica l'unico tuo e quando Abramo è andato è stato obbediente e ogni volta che il figlio Isacco gli chiedeva dov'era il sacrificio cosa rispondeva a lui Dio si provvederà il sacrificio un conto è se Dio ti chiede di fare una cosa forse pure di sacrificare tuo figlio è un conto se tu dalla tua carne dici io offrirò un holocausto all'eterno la prima persona che io incontrerò povero Jeff ha sbagliato sorelle e fratelli possiamo essere ripieni dello Spirito Santo possiamo essere ripieni della grazia di Dio possiamo essere desiderosi di servire al Signore ma possiamo anche sbagliare quanti uomini di Dio hanno sbagliato non faccio nomi ma quanti evangelisti famosi sono caduti nel peccato quanti risvegli sono stati uccisi a motivo della carne quanti risvegli sono stati trasformati in macchine da business e quante persone sono cadute specialmente in adulterio o in situazioni molto particolari che Dio ci preservi amè essere ripieni dello Spirito non è una garanzia per non peccare dire alla persona vicina a te essere ripieni dello Spirito non è una garanzia per non peccare amè la carne è sempre là noi siamo fatti di carne di anima e di Spirito e la carne è sempre la carne finirà quando tu sei nel cielo ma per adesso te la devi portare dietro e qualcuno se la porta dietro abbastanza pesantemente però noi siamo nel combattimento amè e allora dobbiamo imparare la mentalità del reino e imparare a sottomettere la nostra carne e Jeff fa un giuramento temerario e infatti quando lui ritorna a casa che cosa che cosa incontra guardiamo nella parola del Signore versetto 34 capitolo 11 versetto 34 Jeff ritornò a casa sua a mispa ed ecco uscire l'incontro chi? sua figlia ah qui ci ricorda Maria che esce con gioia ma fa la gioia viene cambiata Maria sonò danzò con tamburelli quando Israele vinse anche lei va per incontro a suo padre per danzare per gioire e la parola del Signore ci dice che era l'unica figlia era l'unica figlia perché non aveva altri figli o figlie ora gioiamo quando una vita viene alla nascita ma che sofferenza quando un figlio invece ti viene meno e lui aveva fatto un giuramento troppo troppo temerario e come la vide lui si stracciò le vesti e disse ah figlia mia tu mi rendi grandemente infelice tu mi porti sventura io ho dato la mia parola all'Eterno e non posso tirarmi indietro e la cosa che noi leggiamo nella scrittura nel versetto 26 è che questa ragazza sembra avere molta più fede di suo padre perché suo padre dice si vincerò ma ci mette un po' del suo ma lei dice se hai dato la tua parola all'Eterno fai di me secondo ciò che è uscito dalla tua bocca attenti a ciò che esce attenzione a ciò che esce dalla nostra bocca amè possiamo dire amè attenti a ciò che esce dalla nostra bocca perché con la nostra bocca possiamo benedire e possiamo anche maledire amè attenti alle dichiarazioni ai giuramenti temerari attenti alle imprecazioni che poi il diavolo le prende in mano e ce le rivolge contro attenti a maledire noi stessi o gli altri o il giorno in cui siamo nati o il giorno in cui morremo o a maledire il giorno in cui i nostri genitori attenti possiamo trovarci in questa stessa situazione di pagare uno scotto troppo alto per quello che noi abbiamo detto confidiamo nella grazia di Dio ma metti un guardiano sulle tue labbra dice il libro dei proverbi amè metti un guardiano sulle tue labbra e se sei sposato metti tua moglie davanti a te che ci pensa lei amè o viceversa amè 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 metti un guardiano sulle tue labbra attenzione a ciò che noi dichiariamo perché ciò che noi dichiariamo come ho detto prima se diciamo signore io ti amo a effetto nei luoghi celesti ma anche se malediciamo a effetto nei luoghi celesti amè quindi attenti a ciò che noi diciamo la parola del signore ti dice qua che questa ragazza fece una sola richiesta lasciami libera per due mesi affinché possa andare in giro per i monti a piangere la mia verginità con i miei compagni cosa voleva dire questo non so se voi avete riflettuto cosa voleva dire il significato è questo il significato è che per una donna in Israele era sposarsi e avere un figlio era una grande benedizione perché da quella progenie poteva nascere il Messia quindi chi non si sposava o chi era sterile veniva considerata come una maledizione perché da questa donna non potrebbe mai nascere la progenie che Dio aveva dato da cui sarebbe venuto il Messia e la sostanza del discorso è proprio questa lei dice ok io non non mi sposerò più sarò sacrificata gli autori gli studiosi dicano non sappiamo se poi questo sacrificio è stato veramente il sacrificio della vita o si è stata sacrificata nel senso che non si è più sposata è stata consagrata all'Eterno come una sorta di sacerdotessa ma io sarei piuttosto dire che lui ha sbagliato ha sbagliato di grosso e quando ha parlato di Olocausto quando la Bibbia parla di Olocausto parla di un sacrificio è vero e comunque questa storia si conclude dicendo che non sappiamo cosa gli è successo effettivamente ma che le ragazze di Israele poi ogni anno da quel tempo vanno tutti gli anni a piangere la figlia di Jefte il Galadita per quattro giorni all'anno amm il risveglio sta scemano Dio permette il risveglio della nostra vita amm Dio ci chiama a vivere con Lui ma noi dobbiamo essere persone responsabili dobbiamo sapere qual è la chiamata che Dio ci rivolge dobbiamo vivere in questo riflesso della chiamata che Lui ha per ciascuno di noi e vogliamo dire grazie Signore amm perché se noi siamo fedeli al Signore Dio ha provesso a ciascuno di noi una progenia e una casa amm e quindi guardiamo a Lui e guardiamo a quello che Lui può fare attraverso di noi anche se cadiamo Lui è pronto a rialzarci attenti a ciò che noi diciamo dichiariamo parole di amore e di benedizione come abbiamo sentito oggi dal nostro caro Catello era in tema questa poesia amm con le parole tu puoi benedire puoi aiutare oppure anche puoi fare delle cose negative vogliamo alzarci un momento in piedi in piedi grazie a tutti Grazie a tutti.